Ciao, ti do il benvenuto in questo corso in cui ti mostro dove i contenuti del corso di Armonia Pratica quando tu fai, se acquisti pacchetto da 97 euro avrai accesso a questa sezione qui se acquisti quello da 147 hai accesso a questa e a quella precedente, tutte e due quindi i contenuti sono, qui c'è sommario dove puoi vedere gratuitamente accordi di settima a tre voci la lezione con i diagrammi, stessa cosa, accordi di settima a quattro voci per suonare i brani più comuni e averli con la fondamentale su varie corde, quinta corda, sesta corda in modo da poter prendere diversi accordi sul stesso punto di manico lo spiego nel video, con queste sono le lezioni gradue poi parto con le triadi, non necessariamente devi seguire quest'ordine però c'è indicato un ordine di triadi accordi sus 2, maggiori, sesta maggiore fino alle progressioni e ai brani il corso tratta di, come vedi, di specie di accordi di colori, estensioni aggiunte ai tre accordi di progressioni armoniche e di brani quindi ma ne spiego non è che questo potresti trovarlo su un libro ma io, quello che paghi tu, oltre al materiale mio, personale sono lezioni lezioni c'è una lezione che ovviamente un libro non ti può dare quindi la lezione di un maestro un libro, quindi perciò è un videocorso dove io ti spiego proprio per esempio, le triadi sono 5 video con in questa lezione sulle triadi ti ricordo sono la terza maggiore al basso mi soldo e c'è sono 5 video 5 video con i diagrammi con metodo di studio con esercizi con diagrammi ecc triadi maggiore, minori e applicazioni quindi oltre alle nozioni come si forma come si applica nei bra e come si prende i voicing diversi quindi c'hai come prendere voicing per esempio ad nona oltre alla lezione c'hai come degli esempi di voicing oltre alla lezione hai i brani hai gli stili è abbastanza completo quindi abbiamo tutte le specie di accordi accordi di di dominante due video con le estensioni per esempio questo è un sample poi c'è l'armonizzazione tutte le lezioni l'armonizzazione esempio di armonizzazione teoria in tutte le tonalità ovviamente tutte le tonalità l'armonizzazione maggiore minore armonica qui tutte le specie di accordi vedi degli accordi speciali particolari di nona ibrida di undicesima di minore 6 ad 6 con i voicing eccetera così quello completo parla di proseguo con add 11 con accordi tredicesima accordo diminuito e semi diminuito ci sono proprio dei diagrammi lezione completa poi ci sono c'è la lezione su come armonizzare per arrangiare i brani che puoi approfondire nel videocorso arrangiare i brani però già qua ti spiega abbastanza poi c'è il blues maggiore ma il blues c'è tutte le progressioni tutti gli stili del blues dagli anni vendi ad oggi tutto nei dettagli il turn around quindi la lezione eccetera poi ci sono quindi secondo quinto primo minore maggiore con un sacco di esercizi vedi schema delle cioè di come applicarli di come studiare decine di pagine seconda minore minore ascensione seconda maggiore come fare le diciamo passare da una progressione da una tonalità a un'altra per seconda minore maggiore terza minore eccetera ci sono esercizi diagrammi vedi così il secondo quinto primo in minore stessa cosa i diagrammi gli esercizi poi ci sono infine gli standard ho messo qualche realbook che si trova sul web magari per praticare comunque ti consiglio di comprarli realbook però c'hai tutto quello che ti serve e infine ci sono i brani che ho messo in repertorio che sono brani tipici per praticare out on leaves che c'è la lezione blue boss mi sono innamorato di te per prendere un brano pop night and day tech day train io ti ringrazio per essere stato con me ti invito ad iscriverti al corso approfitta delle feste natalizze per studiare e pagarlo scondato ti ringrazio per essere stato con me ci vediamo all'interno del corso sul mio sito e sul canale youtube ciao